Musica E ben ritrovati ragazzi su Maviciano e sono il vostro Mino e oggi siamo qua a Vermillion City in Pokémon M.O.P. con tutto, cioè tutto, gran parte del team Chiogre Che trovate la pagina in descrizione perché siamo anche su Facebook ragazzi, su Facebook Tutti ci stanno salutando e oggi, come avete letto dal titolo siamo qua perché vi faccio vedere come funziona questa cosa qua Il Global Trade Link Che sarebbe, metto qua i Pokémon che non voglio, li vendo e BIG MONEY! Insomma avete capito, ho anche i Pokémon, ho anche queste cose qua, tutti gli item Vabbè, comunque, ora cosa faremo? Ci sarà Ron, papa, il nostro boss, che ci passerà dei Pokémon Ci saranno questi Pokémon qua che sono 2-3 Mudkip mi sembra, sì Perfetto, andiamo dentro e vendiamo questi 4 Mudkip perché Ron ci dice che valgono 10k l'uno Guardate come funziona, quando cliccate sul PC c'è il Global Trade Link qua sotto Quindi attenti a non piegare velocemente due volte perché dovete andare sotto Cliccate E eccolo qua, vi si aprirà Qui potete acquistare, cioè voi cercate il Pokémon che volete qua sopra Oppure l'oggetto che volete qua sopra Diciamo che ci sono più in alto quelli che valgono di più Tipo, io ora qua, da vendere, ho una scaglia di Drago che ho farmato ora con il mio linone E lo dovrò vendere Come funziona? Faccio Dragon E appunto mi viene, vedete quanto vale? 10 Quindi io la metterò qua, create listing Faccio così, prendo la scaglia Metto qua Scrivo qua dentro 10.000, lasciate perdere quello che c'è scritto qui sotto E sell E sarà, eccola qua Sarà nel mio archivio, nella mia lista Attenti che quando fate così vi vanno via un po' di soldi So che le guadagnate, però attenti che vanno via Cioè da qua, non vendete tantissima roba Perché se no, perde soldi Perché poi, cioè, dovete essere sicuri che poi ve li prendano Comunque, prendiamo questi Mudkip L'uno, l'uno valgono 10.000 come dice Ron Quindi mettiamo qua 10.000 E si vende 10.000 E si vende 10.000 E si vende E 10.000 E si vende Perfetto, vedete? Ora qua sono tutti qui Tutti 10.000 E possiamo vederli qua Eccoli qui I miei Livello 25 Mudkip Sono i miei, vedete? Ah, alcuni vendono anche a meno Ma intanto noi, eh, sì Diciamo i nostri Non abbiamo nemmeno visto i quelli che mi ha dato Ron Ma dovrebbero essere Sono normali, ragazzi Sono dei Pokémon normalissimi E ok Ora bisogna solo aspettare Che ce li prendano prima o poi Quindi ragazzi Allora Noi siamo tutti intorno al tavolo Chi è che offre da bere? Ragazzi Qualcuno offre da bere? Nessuno offre da bere Siamo tutti poveri Vabbè ragazzi Comunque Ci vediamo In un prossimo episodio Tutti vi salutano E vi diamo appuntamento E spero che il prossimo episodio sia Un continuo della serie Perché dopo tanti eventi di Natale E quant'altro Ci siamo un attimo fermati All'Isola di Cannella E il prossimo episodio A parte che non lo stiamo facendo Perché vogliamo Trovare Cioè non voglio farlo da solo Ma abbiamo in mente qualcosa di speciale Per continuare la serie Fino alla Lega E quindi seguiteci Che saranno delle Delle puntate speciali Le prossime Ci vediamo appunto Nella prossima puntata Da Mino In Marciano è tutto E il team Chiogre vi saluta Linea Allo studio Ciao ragazzi Dai Iscriviti Mi Mi Aspetta.